Musica Ciao a tutti amici di Youtube Sono AssunoDumida e oggi sono in compagnia di Nessuno Perché sono un bel solo io Allora Cercherò di fare un video Su questo gioco che mi ha consigliato Cioè non è che mi ha consigliato un amico Mi ha sfidato un mio amico E mi ha sfidato a fare meno di 100 morti Penso che l'ho conosciuto tutti sto gioco E' un gioco che è stato giocato da un youtuber molto famoso Che si chiama Favij Siete la musica che spacca Iniziamo Allora Lo scopo è non cliccare questo tasto Cioè give up Cioè tipo arrendersi possiamo dire Un attimo che il mouse lo tiro fuori Un po' distante Ok Iniziamo a giocare Devo arrivare al 25esimo livello senza mai morire E questo è lo scopo Cioè la scommessa che ho fatto con il mio amico Se ce la farò Lui mi darà tante patate Non le sue Ma quelle I ragazzi No spesso Cosa sto dicendo Cosa sto facendo Nella mia vita Mi sembra tanto difficile come gioco Anche se l'ho già visto fare da un youtuber L'avevo già detto prima Porca trota Non mi fa il doppio salto Buopi 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 Ah Lascerò il link del mio canale in descrizione Come se servisse qualcosa Allora Il prossimo video E non pe... Scusate se non ho caricato tanti video Beh scusate Quasi nessuno guarda i miei video Quindi non serve che dica scusate Ehm... Vabbè lo dico lo stesso Scusate se non ho caricato i video Ma... Aspettavo che Ci fosse anche il mio amico Solo che In questi giorni Non... Non ci siamo quasi mai incontrati Possiamo dire Cioè il mio amico Il mio uccino di caso In questi giorni non ci siamo quasi mai incontrati Possiamo dire Quindi non ho voluto fare video Perché di solito li faccio con lui Quindi Non mi è sembrato giusto farle Oh Un sparamoshwello No Dio cacca Cacca No No scusate Scusate Un sparamoshwello Non c'era nel video Quelli che ho visto Deve sarebbe la difficoltà O no Ce n'è un altro qui Oddio 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 Andiamo Spar... Il sparamoshwello Meno bugazze Tite papà Ragazzi guardate come si muore Guardate l'esperienza nel morire Non salta un cazzo Non salta un cazzo Mi spara mashmallow Mi fanno una bip Amma Che trollone E si salva Con la maestria Di As... Amma stavo cadendo di nuovo Vabbè stavo dicendo Con la maestria Asuna Asuna Demi Non mi ha fatto il doppio salto Ragazzi Qui in questo momento Vorrei uccidere il trattore di questo gioco Ragazzi Continuando ad aggiungere cannoni Si cannoni Spara mashmallow Aaaaaah Ma io li chiamerei spara cazzi Non li chiamerei spara mashmallow Perché non mi fa il doppio salto Ragazzi Mi stava per ammazzare L'espérance Guardate Ohle Ohle Non ci credo Come mi ha fatto Vabbè mi sono andato Ok sta per morire Invece no Invece no Lui La potenza Cazzo Gash vai a tutto della vita Non ho capito un cazzo nella vita Ragazzi Ho tutto a livello 20 O ho livello 25 Vabbè Devo cercare di arrivare a livello 25 Facciamo fino a livello 25 Ecco Mi sa che questo è un problema Ecco Sì infatti Ma me spara mashmallow Me fa la pippa Ma dai perché non mi fa il doppio salto Ma porca bacca Non ci credo Guardate di nuovo Guardatelo Non salta Non salta Madonna A me spiderman Me fa una pippa Cazzo Ce l'ho fatta Dai Almeno Siamo riusciti a fare Oh cazzo Sto qui è un spara mashmallow Duri Spara mashmallow Duri Spara mashmallow Duri Cazzo Non so se l'ho già detto Ma spara mashmallow Duri Molto duri Duri quanto Il mio caro Il mio caro Amico Johnny Che si trova sotto di me In questo momento Ma non ci credo Ma non ci credo Ecco che Anche se video durerà tanto Io devo arrivare A quel punteggio No No Non ci credo Paralo Stronzo di un gioco Madonna Adesso ragazzi Lo finisco Ma porca vacca Ma madonna Perché sono così Quelli Perché sono Così difficili Aspettate un attimo Che guardo quanto ho fatto Sono sette minuti Sette minuti E 21 Per la precisione Cioè da me almeno C'è scritto così Ragazzi non è colpa Io avrei anche Sarei già arrivato A livello 25 Ma Sto gioco è merda Me ne odia Sì è un gioco è merda È un gioco del cazzo Guardatelo L'esperienza Michael Jordan Michael Jordan Un cazzo È il momento della pippa Eh ragazzi Ma pippa lo so Eh porca vacca Non stavo Stavo guardando Quante mo- Forte ho fatto Guardate se parlo Sta lingua Ma vengo da Veneto E noi Barliamo No scherzo No scherzo No scherzo Non parliamo un cazzo Così Come fa a prendermi Quando Sto In movimento E lui Sta fermo Ma so Coglioni Io O è forte Lui Per momento Le spiegazioni Ti prego Oh Dio Grande Ragazzi Io Oh cazzo Cos'è quella Merda Cos'è quella Cossa Ma come si fa Come si fa Morire Oh mercolè Allora Mi sto Leggermente Incazzando Con Questo Con Questo gioco Perché Non me funziona I dust Il Cocaine Attento Molto attento E lui E scaltro Lui E' il pippatore Qui Oh cazzo Sono un po' Messo male Cocaine No Come si fa Qui Ma non ci Credo E va Che gioco De me Da No E' un gioco De me Da Guardatelo Lui No Ma dai Ma come Non mi fa Il doppio Salto Cioè Me lo fa Ma Alcune volte Proprio Non me lo fa Ragazzi Alcune volte Me lo fa Ma di Med E addirittura Lì il cannone Cocaine Allora Sono stato Fermo Per morire Allora Io non vorrei Cliccare Questo tasto Ma Dio mio Guardate Spara Marshmallow Rompugaz Oh Oh Sono a livello 25 Devo finire Questo Porca What Non si può fare Ma non si Vabbè No Io direi di Chiuderlo qui Perché Lui mi ha detto Arrivare a livello 25 Non mi ha detto Di finirlo Quindi Vabbè Bravo Bravo Il mio amico Bravo Allora Guardatelo Allora Io direi Di finirlo Scusate Io direi Io direi Di chiudere qui Il video Allora Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel Mi piace Iscrivetevi E grazie Se vi iscrivete In descrizione Lascerò il link Del mio amico Che ha voluto Farmi la sfida E guardate lui Quante volte È morto E dopo Ridete Fate Così ridete E Vabbè Vabbè Lasciate un commento Ditemi Scusate Vedetemi se il video vi è piaciuto E Grazie Della Della compagnia Iscrivetevi Vabbè Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.